Allora proprio ora in questo momento pronta pronta non proprio perché ho un po' di febbrina però sì non vedo l'ora a maggio che iniziano le date di vedervi di stare con voi cantare insieme su quel passaggio. Le date del tour escono a brevissimo anche perché inizia maggio quindi ad aprile usciranno e anche il nome del tour che alla fine avete scelto voi il nuovo singolo uscirà a maggio ho preso una tachipirina da poco e adesso sicuramente si sta abbassando però questo mal di vola fortissimo e sto prendendo anche l'antibiotico no grazie ho già mela la mia cagnolina che mi fa che mi aiuta e mi sta vicino dovrei proprio far vedere di chi è questa domanda. Allora a maggio ci sarà la Sardegna ci sarà la Toscana basta non mi fate dire altro basta. Sì sì ce ne saranno sì stasera letto copertina tachipirina e tanta nina melina pesa quasi due chilettini vero quasi due chilettini ed è sempre qui che mi fa compagnia mi sta sempre vicino per fare l'isola bisogna essere sicuramente molto motivati e io lo ero però no tornarsi dietro non la farei assolutamente non la farei assolutamente la farei assolutamente